Si è concluso presso la scuola calcio CSI Oratorio Don Bosco, nell'impianto sportivo Beniamino Baldi, il football camp dell'Atalanta Calcio che ha visto la partecipazione di più di 80 giovani atleti fra i 7 e i 14 anni. Un'esperienza tecnica e aggregativa di sicuro rilievo, il settore giovanile dell'Atalanta è garanzia di qualità, da anni rappresenta un vivaio capace di sfornare talenti e calciatori per i quali la maglia nerazzurra e un felice trampolino di lancio. Un'occasione unica dunque di formazione sportiva per i giovani atleti ma anche per tutti gli istruttori della scuola calcio CSI Don Bosco che hanno collaborato attivamente con gli allenatori del settore giovanile dell'Atalanta presenti al camp. In ogni giornata i ragazzi che hanno partecipato si sono esercitati in base ad una serie di attività programmate e personalizzate, a partire dalle capacità atletiche e calcistiche di ogni bambino. Ad inizio camp infatti su ogni atleta è stata effettuata una verifica d'ingresso per valutare il livello di partenza, così da creare gruppi omogenei per abilità ed età. Gli allenatori hanno stimolato ogni bambino a migliorarsi rispetto ai propri punti deboli, rafforzandolo nel contempo sui personali punti di forza. A fine camp ad ogni partecipante è stata consegnata una vera e propria scheda di valutazione finale con i giudizi degli allenatori che l'hanno preparato durante la settimana. Lungi dal sollecitare un qualsiasi spirito competitivo, ogni bambino è stato invitato a svolgere le attività di allenamento con la massima energia e motivazione, indipendentemente dal confronto con i compagni. Il camp tuttavia non è stata solo un'esperienza calcistica, ma anche un momento educativo, significativo, un'opportunità di incontro fra atleti di diverse scuole calcio, un momento di formazione per la propria autonomia e per il proprio senso di responsabilità. Ha proposto pure un programma di animazione, giochi sempre nuovi che hanno coinvolto i giovani partecipanti durante tutta la settimana, tornei di biliardino, ping pong, giochi di squadra che hanno permesso ai bambini di socializzare divertendosi insieme e alternando gli allenamenti con momenti di solo gioco. Il presidente del CSI, Gubbio Enzo Panfili, e tutti gli istruttori si sono mostrati molto soddisfatti, consapevoli che questa esperienza abbia rappresentato l'inizio di una collaborazione tra la scuola calcio CSI Don Bosco e il settore giovanile dell'Atalanta che potrà avere importanti sviluppi nell'immediato futuro.